Mio marito si spaccia per divorziato. Che cosa faccio? Lo lascio? O gli do un'altra possibilità? Benvenuti nella mia nuova rubrica Un Consiglio da Rossella. Accominciamo. Cara amica, diciamo che io ci sto pensando da qualche giorno cosa consigliarti, perché non pensare che io do i consigli a cuor leggero, perché molte volte le parole, in un momento in cui una persona è vulnerabile, possano dare un peso alla decisione. Io non voglio tenermi questo peso sulla coscienza che magari si è sfasciata una famiglia per colpa mia, anche se così non è, perché voglio dire che tuo marito è molto bravo da solo. Allora, se tuo marito ti dice, e tu l'hai sentito con le tue orecchie, che lui si spaccia per divorziato, ma perché non realizzare questo suo sogno? Capisci? Ma che altra possibilità gli puoi dare? Cioè, questo che rispetto è? Non è che stiamo parlando di uno che semplicemente chatta con le donne o che semplicemente ti tradisce, tra virgolette, ti tradisce con le donne, ma è uno che non solo fa tutto questo, ma si spaccia pure per divorziato, per dire proprio sono libero, cioè proprio non ho nessuno. Perlomeno un marito che tradisce fa finta che dà considerazione alla moglie, perché con l'amante sta tendo a non parlare della moglie. Chi se invece mangia? Niente. Cioè, addirittura la moglie non ci fa proprio problema, non ci sta, perché lui è divorziato. Non riesco a non dirti, cara amica, che purtroppo il lupo perde il pilo, ma non il vizio. Se tanto mi dà tanto, gli hai dato tante possibilità, anche perché questa non è la prima volta che tuo marito, diciamo, ti manca di rispetto, ma chi sta aspettando, cara amica? Sta aspettando che la prossima volta si spaccia per vedovo? Eh, e allora, io quello che ti posso dire è che ovviamente questa non è una decisione che si prende da un giorno all'altro, certe scelte vanno maturate nel tempo, vanno prese consapevolezza, bisogna essere pronti per prendere una decisione, però fatti solo una domanda, eh, voglio davvero vivere in questo modo? Mi merito di essere trattata in questo modo? Quest'uomo cambierà? Perché nessuno cambia. Cioè, chi nasce tu non muore qua. Se una persona ha l'animo friariello, resterà sempre friariello, diventerà solo più bravo a essere friariello. Hai capito? E tu perché devi stare male, tu che sei una moglie così attenta e che la vuoi così bene? Quindi pensaci bene. È una decisione molto personale, come del resto, la tua felicità. Quindi ti faccio un grande in bocca al lupo, pensa bene a come vedi il tuo futuro e come vorrei che fosse e cosa puoi fare per vederlo come tu desideri. Capito? Perché molte volte la felicità non dipende dagli altri, dipende dalle decisioni e dalle scelte che prendiamo noi stessi per noi. Poi sai come si dice? Chi mi ama mi segue. Chi non mi ama, se spazio per divorziato. Buona vita! Grazie a tutti.